l'isolamento. Mi ero fatto amiche le formiche, le conoscevo ormai una per una. Ci mettevo le fette di salame, loro uscivano dalle loro tane per venire da me. Ci avevo solo un vecchio numero di famiglia cristiana, tutto mi avevano tolto, tv, radio, libri, tutto quanto. Lo nascondevo dentro le mutande e alla perquisizione non lo trovavano, lo sapevo a memoria, pure la redazione, i numeri di telefono. L'ora d'aria era in un quadrato di tre metri per tre di cemento, solo pareti e sopra di me il cielo che pure fra me e quel cielo, però pure fra me e quel cielo una grata, per dieci mesi. E poi alla fine mi concessero i libri, libri per modo di dire, biblioteca dell'isolamento. Carta straccia, vecchi, senza più la copertina, romanzi fatti a pezzi che attaccavo da dove capitava. Ma quando ho avuto i libri, non la televisione, proprio i libri dico, quei libri putrefatti, sbrindellati, beh, su quei libri per la felicità io ho pianto. Ringrazio.